ok ragazzi proviamo ad accenderlo vediamo se funziona, andiamo anche a spurgare l'olio mettiamo l'olio tanto canta, bene direi allora qui facciamo così vediamo deve venire a spugare l'olio tra un po' tutto il rumore che si sente qua dentro qualcosa che gnicca come si suol dire per ora l'olio non si vede metterà un po' ecco, ecco l'olio che sta arrivando ecco l'olio se lo vedete non è un po' viene qua dentro se lo metto è lo struttore mezzo svitato bisogna che lo controlliamo ragazzi bisogna assolutamente controllarlo intanto è arrivato sopra girando al massimo oh, vediamo tutto il rumore guardiamo che ce la facciamo se ne arriva lì poi possiamo mettere la benzina al mare sembra anche che aveva seccato meno male della carburazione col minimo ci siamo è una cosa un po' lunga però è che mancano ancora 5-6 cm grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.